Fine anno bilancio culturale a Gela, che cosa leggono i giovani e i meno giovani e quali quindi sono le letture più gettonate? Le letture più gettonate dell'anno 2016 sono la maggior parte i libri romantici, quindi romanzi dedicati sia agli adulti che sia ai giovani. In questo caso un libro che ha avuto molto successo è stato Io prima di te, che sarebbe questa storia d'amore, bellissima, un po' tragico, il finale, che tutti speravamo che finisse in determinato modo, ma poi ha avuto una risvolta parecchio negativa, però comunque di per sé è stato un bellissimo romanzo, un bellissimo anche film. Una serie, ahimè, parecchio letta da giovani, ma non solo, anche da persone adulte, è questa storia d'amore di due ragazzi giovani che si sono conosciuti all'università e hanno insomma coltivato poi le loro conoscenze e poi è nato un bellissimo amore fra di loro. Ah, ho dimenticato poco fa, dopo Io prima di te, chiaramente c'è il dopo di te, quindi sia l'uno che l'altro sono stati parecchio venduti. In attesa del secondo film forse? Esatto, sì, l'anno prossimo presumo che uscirà il nuovo libro, la serie After, che è compresa di cinque libri, pur ha avuto un tantissimo successo. Ancora per i giovani? Sì, giovani e non solo, ma anche gente diciamo adulta, La Luna Blu, Massimo Bisotti, questo autore l'ho conosciuto tramite Facebook e mi ha lasciato veramente senza parole in modo positivo, non conosceva un giovane scrittore, un giovane autore. Più per grandi questo libro di Andrea Camilleri, che non fa parte della serie Montalbano, quindi conosciamo tutti i Camilleri, per la serie Montalbano famosissima, però anche questo nonostante non fosse Montalbano ha avuto un grandissimo successo per gli adulti. La ragazza del treno, che è stato film visto nelle sale cinematografiche qualche mese fa, un mesetto fa, l'incirca ha avuto pure un altro grandissimo successo. È un romanzo giallo, c'è una storia d'amore celata sotto le veste gialle, quindi un gran bel libro anche questo. Per concludere, invece in bellezza, un bel libro di cultura? Di Vittorio Sgarbi e Michele Ainis, La Costituzione e la bellezza. Questo è un libro che è stato regalato moltissimo da parecchie persone a Natale, ma nel corso del 2016, soprattutto questo fine anno, perché è uscito da poco, comunque ha avuto grandissimo successo. Penso poi Vittorio Sgarbi, il nome è una garanzia. Bisogna dire che grazie al contributo di 500 euro per i diciottenni, diciamo che il libro si è venduto di più quest'anno. Sì, 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 nonostante già le vendite dei libri che se ne dica gela, comunque che non si legge, non è vero. Posso smentire tranquillamente. I giovani, soprattutto è questo che mi fa molto piacere, leggono parecchio. I bambini, accompagnati dalle mamme, si fermano qui mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, proprio per inculcare questa cultura del libro. Perché il libro non solo ti fa rilassare, ti fa uscire dal mondo attuale, dalla realtà, ti fa entrare in un mondo che è immenso, quello del libro. La diciotto app, sì, sta andando tantissimo, soprattutto per i giovani, appunto, ma c'è anche la carta dello studente. Quindi anche gli insegnanti sono stati donati questi 500 euro che spenderanno in libri, o comunque cultura in generale, quindi cinema, teatro e quant'altro. L'autore che lei personalmente consiglierebbe? L'autore che consiglierei? Antonio Manzini, Tabucchi, Sergio Tabucchi. Potrei consigliare anche Magris. Potrei consigliare, vabbè, i grandi classici, che quelli non sono intramontabili, insomma, non finiscono mai. Lasciano sempre dei grandi insegnamenti. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e poi ogni giorno, ogni settimana escono sempre libri nuovi.